Ring ring ring. Pronto. Ciao Gabriella e Carmela. Ho bisogno di una notizia molto buona. Cosa? Finalmente Marco e io usciamo da sera. Benissimo. Sono felice per te. Grazie. Vuoi andare a fare shopping con me per trovare un vestito? Sì, certo. A che ora? Andiamo al centro commercial alle due? Suono bene. A presto. Arrivederci. Ciao. Grazie per aver fatto shopping con me. Certo. Siamo migliori amiche. Che cosa vuoi comprare? Voglio un vestito nuovo e molti esseri. Andiamo a Versace e a Dolce & Gabbana. Gabriella, questo è molto... E quanto costa? Mi dispiace. Andiamo a J.Crew. Perfetto. Mi piace questo mangiore e quella borsa. Attenzione Gabriella. Questo è molto importante. Mi dispiace. Mi piace fare shopping. Ti piace questo vestito rossa? Sì, molto. Ti piacciono questi orecchini? Mi piace molto. Ho bisogno di una cintura morone. Ecco cintura. È perfetta. Grazie. È perfetto. Vai a casa vestirti. Tu e Marco è divertitemi. A più tardi. Voglio parlare domani. Certo.